Visita a Pordenone dell'assessore regionale all'ambiente Sara Vito, che assieme all'assessore comunale Nicola Conficoni e ad alcuni tecnici ha percorso in barca un lungo tratto del fiume Noncello, dal quale ha potuto apprezzare la ricchezza pasaggistica, naturalistica, ma soprattutto per verificare i lavori di sistemazione idraulica che il comune di Pordenone sta ultimando, fruendo proprio di un contributo regionale. Sopra luogo sul Noncello con l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito per visionare l'intervento di manutenzione straordinaria del corso d'acqua iniziato nei giorni scorsi, un investimento importante di circa 200 mila euro finanziato dalla regione che consentirà di liberare il fiume dalla presenza della vegetazione che ostacola il deflusso delle acque. In questo modo sarà possibile anche agevolare la navigazione, quindi tutte quelle manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno e che tendono a riavvicinare la città e la comunità al fiume, che è un patrimonio naturalistico straordinario da salvaguardare e da valorizzare. Non a caso all'assessore regionale abbiamo presentato alcuni interessanti progetti di realizzazione di percorsi ciclabili e di interventi lungo il corso d'acqua tesi proprio a incentivarne l'utilizzo. Una cosa importante per Pordenone è poter sfruttare nel rispetto della stessa questa risorsa proprio per aumentare il suo potenziale di attrazione.